Oh cazzo, che palle! Oh cazzo, che palle! You spin me round, round Ma come cazzo mi hai hitato? Mori, mori, mori! Ok Un uovo di granchio Non è che abbiamo già finito le pozze Che sono partito con una pozza Ero riduce dal boss Mi ero bevuto il falò E' un prank qui per il momento Non voglio chiederti perché, Johnny Ah, questo è un trash mob che continua a responare Quindi lo lasciamo qui perché non è che posso perdere ogni volta vent'anni Cosa cazzo è successo? Oh shit Ma arrivano da quel buco là Ok Ah, secondo me se sto qua mi hita Però per la scienza Ok Devi guardare la strada che fa Eh, il drop sotto non puoi prenderlo Cioè nel senso sicuramente va annullata la palla E poi lo possiamo prendere Non vedo il modo di non morire dalla palla Cioè posso prenderlo e morire dalla palla Sì, facciamolo A me non ci togliamo il pensiero del drop Mi salvo, il cazzo muoio Non morto Ok 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 Round 2 Ah se c'è lo scudo non lo attacco Perché sei uno di quei mob scriptati per pariare La fine Gianni devi stare calmo un attimo Minchia se sei scriptato Eh va bene Smento di curarmi Smento di attaccarmi Ok backstabarlo è dura What? Non è possibile Fuck Devo capire come riuscire a backstabarlo Perché prima ha messo la due mani lui? Che roba terribile il salto ragazzi Vemente terribile Ho malo agli occhi Non è Thanos Non riesco a backstabarlo Ma porca troia Che cosa do giocarlo? Ah di cambiare la voce? No ma ormai a me me la teniamo Ma perché? Oh è buggato sto mob Ok Ho tirato fuori il coso Non può più pariare Può ancora rompermi il culo però Eh Gianni Se metti via lo scudo Scudo del canaliere Carriano Allora qui si può andare Qualcoso Se no c'è un'altra strada Di qui E un'altra strada Di là anche Oh che palle Quante strade Questa sembra continuare Pura bella lunga No dove sono venuto Io sono venuto da là E si può comunque andare di là anche Se no c'è di qui Però voglio provare ad andare qua Che magari c'è il Fuogherello Che posto figo Una signora chiesa Ha ha Ah in chiesa era La tipa Ma che cazzo Hush Questa Questa È una citazione A Death Stranding Raga Sì Questa è una trollata I diaconi Parte 2 Un mappo Un mappo Ah ya Hanno rotto Un altro mappo mondo Non posso farlo Non posso colpirlo Non scoppierò Fa troppo male Ah beh va veramente Mi è caduto un lampadario In testa Cosa cazzo sto giocando A Crash Bandicoot Allora Sicuramente dobbiamo uccidere Tutti Gli ad Forse dobbiamo uccidere Quelli a che canta Che è la stessa meccanica Proprio dei diaconi Di S3 Si si sta spaccando Ok Cosa cazzo sta facendo Non ne vedo più illuminati però Non ne vedo più illuminati Figa C'è un problema di libri in faccia Raga What the hell E' morta così Rilly Che bossisi C'è un problema di libri in faccia My beloved Have no fear I will hold thee Patience Figa adesso mi tolgo la ciabatta La picchio con la ciabatta Go Do it Sì è probabile che ci sia una fase 2 Dai mi sembra troppo Sottotono rispetto ai due boss prima Volgare ficcanaso Frames Ok I'm ready bitch Non ero così ready Cioè ero ready per modo di dire Rom Da che direzione spawn E' da di là O di qua Erano poco ispirati Alla from Erano poco ispirati Quando hanno fatto determinate cose E' da di là Ok 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 la palla ti zona completamente Perché rimane lì È enorme A ricerca E fluttua per due ore Quindi quando lei fa la palla Tu puoi solo che andarti Bisogna prendere il tempo Con Con il beam Ma non è semplice Perché lo carica due anni Allora Proviamo a pusharla Ok Ok Ma quante stelle ha C'è veramente cinder sto boss Cosa cazzo Ok 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 What the hell È un peccato che perda frame Ma è veramente veramente figo Sì credo che sia il boss Con più spell diverse Tutte insieme Mai visto sui soul Alla Ok 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 Grazie a tutti. Ok. No, vedi, però questo non l'ho mai shottato. No, vedi, vedi. Easy. Runa maggiore del mai nato. Questo sicuramente da qualcosa di fighissimo da mage, ma ovviamente niente arma dex, credo. Come out, from whence ye hide. There are books and light aplenty. Dither not. Come out, say I, or will he be gravestones to be better born anew. Sono dimenticati i corpi, raga. Rinascita. Una lacrima di larva. Estetica. Ah, posso rifare l'estetica del PG da lei? Rinascita. Ah, credo che rinascita ti fa rispeccare. Credo che ti faccia rimettere le soul. Sì, tipo rosaria. Sì, sì, sicuro. Come hai chiuso la chiave? Cazzo. I need the key. I need the key. Cazzo la rotonda. Rinasciamo e mettiamo tutto fede. Allora, se domani ho voglia, diciamo che rischiniamo il PG. Se domani ho tempo e voglia, mi metto a rischinare un po' il PG. Hello? Hoi lei. Per persuadere a Mastro Hugue, posso assicurare che mi ha insegnato la nobile toile di spiro. Io ancora non ho sicuro di quello che potrebbe essere capito. Ma se potrebbe essere potuto aiutare tutti, vorrei provare. E se c'è una possibilità di rinforzare la sofferenza dei miei amici che si erano graftati, beh, sicuramente devo provare. Roderica, la spiro di spiro di apprentice. Mi ha un'esperienza di spiro di spiro di rune e con vallarie sepolclari per potenziare gli spiriti e i vocati... Ok, non ci interessa. Si vede proprio. No, Jin, sto per saccare. Parlo con gli NPC e abbandono la nave. Abbiamo appena fatto un boss e siamo felici così. e un'audienza con la Queen Marica per diventare l'Elderno e ristare l'ordine. I figli aspettano così tanto da te che hanno fatto, young Gideon. Prendi questo. Un token. Un gift. Borsa da Lisbano. Ora diventare... Ah... Un Dio in vera. Grazie. Bene the Elton Ring's Shattering, she was imprisoned in the Eard Tree, a grim banishment for shattering the Order, despite her godhood. Bravo, Jyn. The fingers speak. Secondo me c'è ancora tanto gioco Sì, raga, minchia se siamo indietro Cioè alla fine di boss maggiori secondo me ne abbiamo fatti due Poi abbiamo fatto molti più boss Ma maggiori sono quelli che tirano le rune e due ne abbiamo fatti E credo che siano sei C'è quell'NPC che fa i versi strani Che chissà che cazzo dovevamo farci E dobbiamo vedere che cazzo è E sì, abbiamo una strada di qui che non abbiamo visto Quindi dobbiamo esplorare la strada Grazie a tutti